bella ragazzi sono cp da best player e oggi sono qui insieme allo chef e siamo qui con una nuova sfida è tornato il nostro amico tabasco ma oltre a lui oggi siamo in compagnia del milionario quindi chi vuole essere milionario oltre che sempre al nostro cattino chef e cattino in company che potete vedere lì in alto fiero popo fiero e oggi quindi come funzionerà questa sfida ogni domanda che sbaglieremo sarà un cucchiaino di tabasco quanto durarvi finché uno non morirà quindi possiamo subito partire due giocatori allora facciamo inizio io visto che insomma veterano poi è una sfida uno contro uno ma uno se non sa una risposta ha un aiuto cioè può chiamare una qualsiasi persona che ha nella rubrica ma si vuole chiamare anche il 118 la polizia per sentire una loro opinione può e quindi chiedere un suggerimento quale può essere la risposta quindi subito iniziamo su quali alberi crescono i datteri non devi dirlo non dirlo io mi dai suggerimenti allora i pino i pioppino le palme io anch'io voto le palme palme mamma mia vai tocca a te ma io mi sono salvato attenzione per le due di domanda ma che si deve muovere l'analogico a leggi bene in quale provincia italiana ci troviamo se passeggiamo in valtellino ooooh 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 vai mamma mia questa terra giochi questa terra giochi questa terra giochi lo sto già per preparare lo sto già per preparare provincia vai voto voto dai fondrio ma il culo l'ho già tirata fuori hai il ricordo di che puoi anche telefonare a una qualsiasi persona allora 50 euro ne abbiamo vinti proprio così semplicemente giocatore 1 il sottoscritto allora quale re fu il responsabile della strage degli innocenti chiamiamo chiamiamo tom tom non rispondi non rispondi non rispondi rispondi ti prego tom tom ci sei? oddio ho bisogno di te assolutamente devi rispondere a questa domanda vai allora quale re fu il responsabile della strage degli innocenti? opzione erode amse l'ho fatto? l'ho fatto? si è bloccato aspetta che non mi mangio il tabasco allora vai erode allora vai erode ti prego allora l'ho fatto? si è bloccato aspetta che non va erode giusto andiamo mamma mia cosa vuoi dire? ciao tom tom ciao 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 grazie saluta il mondo ciao ciao andiamo a fare il cucchiaino si salviamo con l'aiuto da casa mamma mia cucchiaino rotto perfetto andiamo e stavolta ci siamo salvati tocca a te il lago di Loch Ness ma tu ce l'hai semplici aaaaaah dai dai metti dov'è Joystick vai 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 dai dai metti Norwedsport ovviamente let's go dai uuh allora io le possibilità aiuti da casa me li sono mangiati tutti adesso c'era uno lui ma e ancora siamo a 100 euro siamo a 100 euro andiamo vai 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 allora giocatore 1 vecchio Freck è uno dei pezzi più celebri di quale cantante oh signore vecchio Freck allora vecchio Freck ha voglio vederti qua perchè tu lo sai? no allora allora bobi solo me lo gioco tutto su di lui perchè mi piace attenzione apriamo no no domenico modugno ok dopo ci saranno quelli che sanno hai vinto 0 ah mi tremano le mani già 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 salto il corpo tu sta per innavare altro che scorri di Cerno attenzione non scende niente ma come fai? ah intappato è radioattivo è radioattivo ok basta così perchè sennò potrei morire muoio lo stesso muoio lo stesso muoio lo stesso non c'è l'aspirazione eccolo si vede un po' pro 3 2 1 ma porca miseria ma ecco è pazzesco da più sembra l'acqua quella dell'olive la sala voglia che non prenderò bene abbiamo prenderò bene andiamo prenderò bene latte 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 peggio del cibo messicano peggio del cibo messicano oh mio dio oh mio dio non sapete quanto piccante è il tabasco, anche un goccio guarda sono le labbra rossissime mamma mia non credo di farcela oh mio dio rimettiamo in frio chiedi l'aiuto da casa boh, perché avevo formulato una mia teoria no no, hai guardato su internet ma che te, ma che internet vai chiamare l'aiuto da casa vai, chiama a casa per l'aiuto perché star mi è salvato da pesce dai chiediamo l'aiuto da casa ok, ce la posso mettere cosa va? risponde alla segreteria telefonica di 338 no, non può essere scegli un'altra persona, se no te la devi sparare no, no, no scegli, scegli bene io ti consiglio di chiedere al tuo prof di scienze visto che siamo, questo è il campo ecco, mi stai chiamando, attenzione oh ti ho risciutato per sbaglio cosa? ti ho risciutato la chiamata per sbaglio va bene, ho capito, la stai zitta ok a quale classe di animali appartiene la starna? a quale? classe di animali appartiene la starna che cazzo ne so dai, un po' di fantasia allora, le scelte sono mammiferi, pesci, uccelli, confibi una starna? sì ma che cazzo è? va bene aspetta aspetta sparala, almeno così può darti la colpa esatto uccelli, uccelli uccelli vai dici uccelli vai, scherza su uccelli ok giusto mamma mia grazie, ciao ti sei salvato attenzione vai, vai adesso non hai più possibilità di chiamare nessuno allora quale di queste stelle del poto e non ha mai recitato in un film? auguri la butto a caso Britney Spears che sicuramente avrà fatto un film oh dammi il tabacco ce la possiamo fare? sì, vai provatelo anche voi a casa perché ho le labbra bordoio mamma mia che roba mi si gonfiano perfino vedi, opinione per questa grande sfida così diversa dal solito merdosa come al solito perfetto quindi io vi ringrazio come sempre di aver visto il video vi esorto quindi a lasciare un bel mi piace un commento per questa mega sfida che non si vede tutti i giorni e iscrivetevi per non perdere i miei futuri video noi ci vediamo con un prossimo video bella da GP da Best Player e e lo share bella boom non è venuta bene aspetta boom e non è venuta bene boom bella bella bella